Mamma mia, è fatigissima. Max, previsioni per la maratonina? Acqua. Acqua, acqua, acqua. Al di là dell'acqua, previsioni molto a ribasso. Perché? Perché la forma non c'è, non c'è neanche il resto proprio, nell'allenamento e niente. Comunque dai, si prova. Si arriva, si arriva. Tentare è importante che tentare non nuocia, perché se nuoce poi diventa... Basta arrivare, dai. Bene, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Ciao.